Possiamo vedere quindi è una suora che si è presentata a The Voice Eeeh Beh è un bel momento comunque Ma guarda a me è fatto veramente tanto strano Perché è successo così Si volta J-AX contemporaneamente Noemi E si vede allora che fanno Schiaccia cazzo schiaccia A tutti gli altri A proprio ridere che loro Ma perché no? E più proprio lo fa cazzo schiaccia No E la cosa più bella è che sono anche le amiche Sì c'erano tutte le Che applaudivano era bellissimo C'era il fans club clericale Era dove c'è come immagino I genitori non li ho visti Perché lei anche se non si vede ha 25 anni 25 anni con una passione per il canto E una grande vocazione E ci sta comunque non lo so Cioè la vera domanda è Ha senso tutto ciò? Io direi di sì Perché soprattutto se confrontiamo con Miley Cyrus dall'altra parte No certo Va bene secondo me è meglio così Però boh mi sembra proprio quello Buttiamo un po' su dell'acqua Su l'inverso di noi Perché secondo me non ne abbiamo bastanti Dobbiamo fare audience Allora l'abbiamo presa Un po' mi sembra così Perché Cioè lei è brava Io spero che sia tutto vero Ecco l'unica cosa Spero sì Spero ovviamente che sia tutto vero Perché sennò perderebbe molto di senso Ci rimarrai veramente male A scoprire magari dopo due anni Come l'età tu magari All'epoca che magari Che poi si scoprì Non erano lesbiche E in questo caso Scoprire che lei non era suora Magari tra due anni Quindi spero che sia tutto vero E non so Come immagine è bella Grazie a tutti